Uè, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, posizione della stella segreta della settimana numero 7 in questa season, 9! Come vedete siamo arrivati all'impianto a pressione e come state già notando da questi due player, la stella segreta si trova proprio qua in alto ragazzi, dove si è fermato questo giocatore! Come vedete siamo proprio nella parte a sinistra dove c'è la diga e qua in alto ragazzi, proprio qua in alto, con precisione, ve lo faccio vedere in mappa, oh a me mi ammazzano ovunque mi ammazzano, nella parte di qua ragazzi, appena presa la prima scala, troverete la stella segreta per completare le sfide totalmente di questa settimana numero 7! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, ho una sfiga incredibile! Noi ci vediamo domani in live, ciao! Ciao!